Buonasera, buonasera, benvenuti a questa zuppa economica serale. Evidentemente le notizie di questi giorni riguardano soltanto il 72 ore di Ucraina di invasione da parte dell'esercito russo. Cosa sta succedendo a Kiev, quali sono le sanzioni europee, quali sono le risposte della comunità internazionale, cosa saranno quali, saranno le prossime mosse di Vladimir Putin. Ma evidentemente, come abbiamo capito la settimana scorsa, il tema dei mercati finanziari resta un tema fondamentale, un termometro che come Leopoldo ci ha insegnato nei giorni scorsi e anche nell'elezione del Presidente della Repubblica, è un termometro, Leopoldo, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a te. E anche l'evoluzione della crisi. Leopoldo, allora, che cosa è successo questa settimana? Chi abbiamo questa sera come ospite? Chi ci hai portato? E che cosa succede? Aspetta, prima di darti la parola, un po' di saluti però ai nostri amici. Stefania Busiol è sempre la prima. È la prima, è la prima sempre. Meri Aki, buonasera a commensali, grazie a te. Thomas, molto gentile, buonasera ad entrambi. Grazie mille per l'informazione libera che è il suo sito. Massimo Latorre, Nick, non riesco a vederti ma adesso mi vedrai, immagino. E stanno arrivando tanti complimenti, tanti aiuti, ma insomma adesso vediamo. Anche da LinkedIn, che ricordo, Davide Bile da LinkedIn, insomma abbiamo tutti quanti schierati i nostri siti. Abbiamo un sacco di gente già sulla nostra diretta, mille persone. Quindi non perdiamo tempo. Leopoldo, che è successo sui mercati? Cosa succede? Chi è il tuo prossimo ospite? Allora, ci eravamo lasciati a Quarta Repubblica Speciale di venerdì con le borse che festeggiavano praticamente, sembrava quasi che non succedesse nulla in Ucraina. Poi c'è stato il fine settimana che tu hai raccontato e che i mercati per fortuna non hanno raccontato, perché se fossero stati aperti in queste ore non credo che avrebbero fatto dei salti di gioia. Vedremo domani, ma noi ci facciamo aiutare da Massimo Intropito, che è un analista finanziario estremamente preparato, in gamba e anche molto chiaro nelle cose che ci racconta. Devo dirti che sto lavorando tanto con lui anche sul nostro sito, Nicola, attraverso degli appuntamenti video che stanno andando molto bene. Gli opening bell. Gli opening bell. Gli opening bell. Suoniamo la campana. Ecco, ma chiamalo Suoniamo la Campana, in un sito che c'è la Zucca di Porro. Suoniamo la campana. Allora, buonasera a tutti. Ciao, Marce. Saluto tutta la community di Nicola Porro, di cui peraltro faccio parte anch'io, perché io non scrivo, ma lo seguo praticamente. E di Leopoldo. E di Leopoldo. E di Leopoldo. E dopo la presentazione che mi avete fatto non potrò che deludere, quindi sono qua. Senti, è il bello che ci ha lasciato venerdì durante la trasmissione, che poi non pensavamo di farla anche di sabato e di domenica, ma invece siamo andati in onda anche oggi e ieri. A un certo punto ha detto, se voi vedete che la diplomazia cresce durante il fine settimana, aspettatevi un rialzo sui mercati. Siccome siamo andati nella direzione esattamente opposta, che ci aspettiamo domani, Maschi? Ma guarda, in realtà oggi pomeriggio, quando abbiamo fatto il nostro opening, bella domenicale, abbiamo aperto nel momento dell'allerta nucleare russo e bielorusso. Ma comunque non abbiamo fatto in tempo a dire, ed è bello qui dirlo da Nicola, oggi c'era un mercato aperto, la borsa di Tel Aviv, perché in Israele festa è sabato. Oggi ha chiuso non sui massimi, ma con un leggero guadagno. Il bitcoin invece è lì che non sa se guadagnare o se perdere, però il bitcoin non è un mercato ufficiale, la borsa di Tel Aviv sì. Quindi, nonostante l'allerta nucleare, però ci sono molte attese per domani ed è possibile che domani si apra magari senza straffare, ma in positivo. Faccio l'analista finanziario, il mio mestiere è sbilanciarmi e quindi punterei più su un'apertura più che non meno. Ecco, anche perché alla fine della fiera, dopo tutti i bombardamenti di questo fine settimana, però si è chiusa con una presa di posizione abbastanza forte della Cina, che ha indotto anche questo incontro. Il punto interrogativo grosso era anche il posizionamento della Cina, per quanto riguardava tutto questo contesto militaresco e quindi poi i mercati, come abbiamo detto più volte, sono cinici. Alla fine hanno bisogno di un orientamento, no Massimo? Conoscono il prezzo di tutto e il valore di niente, credo che sia di Oscar Wilde, ma comunque si dice spesso dei mercati. Però se riuscissimo a trovare quantomeno una tregua, comunque i mercati questa settimana hanno un appuntamento fondamentale, perché mercoledì e giovedì c'è il passaggio semestrale del presidente della Fed, Powell, alla Camera Bassa e al Senato. E lì ragazzi si parla di quando aumentare i tassi di interesse, perché questi in America i tassi li aumentano anche se c'è la guerra in Ucraina. Ecco, questo però è il punto massimo fondamentale. Leggendo alcuni report questa settimana, io non capisco nulla ovviamente, si sosteneva che la guerra potesse rallentare, sono un grande lettore ma non un grande specializzato, c'è qua Massimo apposta e te Leopoldo. Alcuni dei report che leggevo dicevano forse il passo di riduzione delle operazioni straordinarie di quantità di divising, cioè di acquisto di titoli di Stato in Europa potrebbe, il rallentamento potrebbe rallentare. Cioè ci potremmo pensare su due volte, questo farebbe un pochino bene ai mercati e terrebbe ancora un po' giù i tassi. Cosa vuol dire questo, sempre che sia vero Massimo? Beh, vuol dire che siccome le conseguenze negative di questa guerra, ammesso che ci saranno, perché comunque pare che per il momento il gas russo arrivi, però per esempio rischiamo di restare forse più a corto di grano, ma comunque l'impatto negativo... La pasta, la pasta, io ho visto in tempi non sospetti. Allora, l'impatto va sull'economia europea, quella americana no, quindi come dice giustamente Nicola, se c'è chi tira il freno a mano nell'alzare i tassi di interesse può essere la BCE, che peraltro al suo interno è storico, è sempre molto divisa tra i paesi del sud, che vanno molto ad agio con le politiche restrittive, e i paesi del nord. La mia sensazione è che invece la Fed tirerà dritto e a marzo aumenterà i tassi di interesse. Invece quale potrebbe essere la sorpresa? La sorpresa potrebbe essere quella di aumentare i tassi di interesse, anche in Europa, prima che finiscano i quantitativi, cioè gli acquisti di titoli obbligazionari. E questa sarebbe una mossa di politica monetaria molto intelligente, perché in realtà se tu aumenti molto rapidamente i tassi di interesse, ma vai avanti per un po' a comprare obbligazioni, eviti che poi ci sia l'attacco ribassista sul mercato obbligazionario. Cioè il giorno che tutti i fondi di investimento, o perché si sono messi d'accordo, o perché la pensano allo stesso modo, vendono e concentrano le loro vendite, di là c'è uno che compra, che è la banca centrale, che si stampa là il denaro con cui può comprare, e quindi ti tiene in piedi il mercato. Perché ha senso farlo con urgenza? Perché attenzione, c'è moltissima speculazione anche sulle materie prime. Ci sono i grossisti che fanno incetta di materie prime. E siccome per fare incetta di materie prime, siccome siamo in un momento storico particolare, fai debito, perché non hanno i soldi con cui comprare tutte queste materie prime, ecco che se tu gli alzi subito i tassi di interesse, gli dici benissimo, comprate e comprate, che intanto vi costa di più. Allora, qualche speculatore, se non altro per pagare meno di interessi, inizia a vendere, ma sto parlando veramente di cereali, di metalli, di tutto quanto, ed ecco che almeno si calmiera l'aumento delle materie prime. Io invece amo Rita, perché in quel periodo in cui... Rita, io a Chini. Quel periodo in cui ho scritto quelle cose che Rita ricorda, c'è gente che me ne ha dette di tutti i colori, sei un terrorista, non è vero del gas. Adesso, al di là di quello che è successo con l'Ucraina, il gas e il grano avevano delle problematiche a prescindere dalla condizione attuale. La condizione attuale la sta incrementando. Quindi oggi parlando con gli amici di Vella, mi dicono che hanno grossissimi problemi per quanto riguarda la realizzazione della pasta nelle prossime settimane, perché poi sta mancando anche quello che arriva dall'Ucraina, e manca soprattutto il gas. Vabbè, quello sappiamo ormai, quello che sta succedendo, è inutile che lo raccontiamo. Però io avevo detto, prendete una bellissima stufa a gas, non elettrica, quindi non a pellets, la mettete a fianco alla caldaia a legna con uno switch, e nel momento in cui dovesse succedere, Mario Draghi aveva qualche vantaggio in più. No, scherzi a parte. La situazione sulle materie prime è quella che abbiamo detto. Sono convintissimo che bisognerebbe fare estremamente attenzione, bisognerebbe anche regolamentare in maniera molto ferrea quelle persone che fanno incetta di materia prima e non le immettono sul mercato perché pensano che poi facendo salire il prezzo in questo momento stai creando dei danni. Vi riporto sui mercati, non perché le materie prime siano meno importanti, perché tutti noi paghiamo di più la pasta, il caffè, gli oli di semi, paghiamo di più le bollette, è una cosa straordinaria. Chiunque di noi abbia un po' di dimistichezza con le bollette, cioè le donne di casa nostra, sanno perfettamente di quanto è aumentato l'ultimo bimestre. Sono delle cose pazzesche. Non parliamo del pieno alla macchina. E del pieno alla macchina, invece per noi che siamo arrivati a 2 euro. Però Massimo, io ti vorrei fare delle domande molto specifiche per capire se possiamo arrivare a un aiuto ai nostri commensali. Prima domanda, quanto è esposta l'Italia, sto pensando alle banche, ma non solo all'export nei confronti della Russia, perché da lunedì sostanzialmente partiranno queste sanzioni, se non ci sono è roba di giorni. Diciamo che lasciamo ancora aperta la porta alle sanzioni sulla Swift, che è il sistema di pagamenti. Però, insomma, quanto peserà sul mercato bancario? Giovedì abbiamo visto le due banche principali italiane perdere 8, 9, 10%, poi recuperarli solo in parte. Riccola, scusa, prima di far rispondere Massimo a questa domanda, tu prima hai fatto vedere una battuta di uno dei nostri telespettatori sulla corsa agli sportelli bancari in Russia. Anche questo, secondo me, andrebbe ripreso, perché lì effettivamente è più un problema non della paura dello sportello bancario, ma del rublo che è precipitato tremendamente. Sì, io sono un po' più affascinato. Sì, sì, certo, 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 certo. Massimo, un sacco di domande per te. Vediamo se... Allora, ma guarda, la banca tradizionalmente più esposta sulla Russia è Unicredit, ma per operazioni di anni e anni fa. È proprio uscito il comunicato giovedì di Unicredit che dice che noi siamo esposti per un 3% e comunque abbiamo un'ottima copertura di ammortamenti, cioè abbiamo già messo a bilancio delle perdite quasi completamente sui crediti, compresi quelli che abbiamo in Russia. L'esposizione di Intesa San Paolo è minima, l'esposizione delle aziende italiane varia ovviamente da azienda a azienda. Le grandi aziende italiane, a livello di impianti e, diciamo, interessi duri, sono poco esposte. Certo, c'è tutta la parte dei beni di consumo, penso al lusso, ma in fondo questo problema ce l'hanno anche i francesi. Per esempio, è arrivato da JP Morgan, Nicola, non è un titolo italiano, ma giusto per far capire, tra i titoli in alert, per esempio, c'è McDonald's. Ma veramente? Assolutamente sì, è uscito uno studio... I titoli del tabacco e questi titoli qua, mentre invece ovviamente è arrivato un segnale di... Non dico di comprare, ma loro sono molto ottimisti sui materiali di base, che sono i titoli minerari, che negli ultimi dieci anni veramente erano il fanalino di coda, e ovviamente i titoli aerospace e defense, i titoli della difesa, perché noi speriamo che finisca presto, però ora che si raffreddi, la sedia su cui siamo seduti ne passerà di tempo. Quindi in borsa, questo tipo di settore certamente adesso vedrà visto con molto più interesse. Dice Francesco Gaffurini, Euro, Rubro... Non mi risponde, voglio buttare qui sulla discussione un po' una bombettina, perché da indicazioni che abbiamo c'è CDP, Massimo, che è legata al fondo sovrano russo. Quanto è vero, quanto c'è dentro e quanto incide? Non ho visto alert particolari su CDP, il tema comunque sicuramente verrà ripreso prossimamente. Tantissime domande ragazzi, tantissime domande, abbiamo un sacco di persone, scusatemi, vorrei dare priorità ai nostri commensali. Cristina Dorini, può spiegare meglio di Unicredit? Unicredit aveva degli interessi in banche russe, in banche dell'Est, era tutta roba di 10-20 anni fa, sono state vendute quasi tutte e gli investimenti che sono stati fatti, ci dice Unicredit, sono quasi interamente coperti da ammortamenti a fronte di eventuali perditi. Antonella non ci crede, Antonella Carnevale non ci crede, però temo che se dicesse delle bugie in bilancio non sarebbe la prima volta ovviamente in Italia, ma sarebbe piuttosto grave. Dice che Unicredit mente, Antonella. Vabbè, comunque, insomma, il concetto è che le esposizioni sono coperte da accantonamenti di capitale. Mi chiede Valentina Mori, che è una nostra super commensale, come Rita, che ci ascolta sempre, cosa succederà ai semplici bot? Domanda che direi tiene insieme tutti i titoli di Stato. Scusami Leopoldo, ma vado avanti con le domande. Scusami, ma scherzi. Allora, i bot, diamo una risposta molto rapida, se le cose peggiorassero, speriamo di no, i bot nel breve periodo, per quanto la loro vita è piuttosto breve, perché durano pochi mesi, vedrebbero i loro prezzi salire leggermente. Se invece si torna nella modalità business as usual, cioè se la guerra va sotto controllo o finisce, allora si ricomincia a parlare di aumenti dei tassi di interesse per combattere l'inflazione, allora chi vuole investire in bot deve aspettare, perché il loro rendimento nel tempo andrà crescendo. Isabella Del Bono, Enel, Eni, perché Enel è una grande multinazionale italiana, è presente anche in Spagna, in Italia, in Sud America, è una delle aziende più capitalizzate in Italia, e si occupa di elettricità, e però per produrre l'elettricità ci vuole gas, se non un po' di carbone. Eni, invece, è legata molto al petrolio, e poi il dollaro. Tre domande, Leopoldo, semplici, 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 semplici. Tre risposte a bruciapelo. Eni, come tutto il settore delle utility, ha sofferto, perché si temono degli interventi maldestri da parte delle autorità. Pensiamo a cosa ha combinato Macron, contingentando, cioè limitando gli aumenti di prezzi sull'elettricità de France, che l'ha fatta crollare in borsa. Pensiamo al signor Sanchez, che per punire coloro che avevano profitti straordinari, è andato a punire chi faceva le rinnovabili, quindi, semplicemente, chi aveva i pannelli di carriera. Questo è Enel, quindi, questo è Enel, mi stai parlando. Questo è Enel, e quindi, quel settore lì è un po' in crisi, ma sembra che si stia riprendendo. Eni vola, e tra l'altro, ha appena presentato uno dei suoi più belli bilanci di sempre, con dei flussi di cassa, quindi con una generazione di denaro contante molto elevata. Penso che per tutto l'anno continuerà a fare profitti molto alti e a pagare dei bei dividendi, anche perché è finita la guerra, c'è comunque l'uscita dal Covid, con la ripresa dei voli aerei, con la ripresa dei consumi normali. Poi, scusate, la terza, non me la ricordo, Allora, il dollaro è una valuta di guerra, è un asset di guerra insieme all'oro, e quindi abbiamo visto una fortissima accelerazione, cos'è stato giovedì, è andato sui minimi degli ultimi mesi, poi è tornato indietro a rotta di collo, probabilmente, se si andrà verso la pace, tornerà in area 1,14, se invece non falliranno i negoziati, potrebbe tornare in area 1,12. Diciamo che, per certi versi, il dollaro, al di là della guerra, dovrebbe apprezzarsi, perché i tassi di interesse sicuramente aumenteranno prima e più abbondantemente negli Stati Uniti piuttosto che in Europa. Ma, secondo me, c'è dietro comunque da parte dei fondi della Fed, chi lo sa, c'è comunque dietro un'opera per evitare che si apprezzi troppo, perché sai, gli americani sono forti, ma con la valuta troppo forte si esporta di meno. Leopoldo, questo è per te invece, Sara Rosani. Tranquillissimo. No, questo è per te proprio, perché Sara Rosani ti puoi rispondere tu, perché non c'è bisogno di scomodare in questo caso Massimo, ma i nostri conti corrente, sono al sicuro, parlo di Unicredit. Assolutamente, assolutamente sì, non c'è preoccupazione sui conti correnti, le coperture di cui parlava Massimo su quelle esposizioni così basse garantiscono, al di là di quello che ci diceva l'altra ascoltatrice che parlava di menzogne, di Unicredit, non c'è nessuna preoccupazione sui conti correnti. Tra l'altro, oggi con le nuove, con le nuove procedure, con le nuove direttive, gli accantonamenti sono sempre più alti, quindi la copertura è tranquillamente garantita e stiamo parlando veramente di una delle più grosse banche d'Italia e quindi non c'è nessun tipo di preoccupazione. Nessuna preoccupazione sui conti correnti Unicredit, però hai fatto bene a dirlo. Pierpaolo Pollini e per Massimo, ci sono dei fondi comuni, con Leopoldo abbiamo sempre detto che i fondi e il risparmio gestito per noi che non capiamo nulla, non Leopoldo, è sempre l'investimento migliore perché per scegliere la migliorazione è un po' il casino, però dice Pierpaolo Pollini ci sono fondi comuni che hanno importanti stock di obbligazioni russe. Intanto io ti chiedo se è vero e poi che cosa ne pensi? Sono i fondi Emerging Market Debt, la Russia sui mercati è considerata un mercato emergente e hanno delle quote che possono essere titoli di Stato russi o le varie obbligazioni Gazprom, Rosneft, insomma le principali emittenti russi. Poi ce ne sono specializzati per area e ovviamente quelli che sono Emerging Market Europe hanno più obbligazioni russe. Fermo, fermo, fermo. Fondi comuni, i fondi che dentro hanno il rischio di avere più carta russa e quindi che andranno male nei prossimi giorni e sono già stati beccati le quote dei fondi che li accorgi dopo due o tre giorni quanto valgono sono Emerging Market Debt. I Global. E in particolare Emerging Market Debt Europe. Europe. E quelli sono i peggiori perché hanno Emerging Market Debt Europe e dentro ci sono le obbligazioni russe. E hanno una quota più alta di obbligazioni russe proprio per il motivo geografico di appartenenza. E lì insomma ci starei piuttosto attenti perché sono fondi che nonostante abbiano delle obbligazioni vero Leopoldo hanno una volatilità. Ma già i fondi obbligazionari in questo periodo a prescindere dalla composizione geografica relativamente alla Russia hanno avuto già delle belle oscillazioni tant'è che in una delle nostre trasmissioni Massimo addirittura parlava della possibilità di fare in questo periodo il PAC sul fondo obbligazionario per le oscillazioni. Che non si fa quasi mai ma se tu pensi che i tassi aumenteranno quindi i prezzi delle obbligazioni scenderanno vendi una quota importante dei fondi che hai anche se sono andati bene e cominci a ricomprarli un po' per volta in modo che man mano che le loro quote scendono li ricomprerai a un prezzo più basso. Settore tecnologico. Ecco chiede a Moruso qual è la visione che tu c'hai per questo settore tecnologico che vuol dire non sempre il singolo titolo ma fondi che inventano in tecnologia a posto e poi ci saranno delle sanzioni tecnologiche mi sembra di aver capito. Sì la Gran Bretagna ha detto che non venderà più il materiale elettrico di diciamo di alto livello quindi roba sofisticata ecco non le spine della corrente ma in realtà il settore tecnologico va sostanzialmente va sostanzialmente in tre direzioni semiconduttori e lì voglia Dio che la Cina non si rimetta ad alzare la voce su Taiwan che è il maggior produttore mondiale approfittando dell'evidente debolezza dell'amministrazione Biden. Diciamo il generico ha gli ordini pieni per diversi anni perché non fanno in tempo a produrre per esempio la grossa domanda che arriva dal settore auto per le auto elettriche a guida autonoma. Poi ci sono i settori di domani e tra i settori di domani ci sono la cyber security si è parlato tanto di attacchi informatici il cloud signori il big data è stato il più massacrato di tutti ingiustamente e questo però rappresenta che cos'è adesso il settore tecnologico per chi investe voi leggete dei report che sono solo positivi ed è stato il settore più bastonato in assoluto perché siccome costa molto e i risultati li dà dopo un po' di tempo allora perché salga quel settore l'ottimismo degli operatori deve essere massimo cosa che adesso non è attenzione che c'è anche una sovrapposizione tra il green e il tecnologico perché per gestire bene le reti elettriche e i pannelli solari ci vogliono i chip quindi c'è una grossa domanda anche da quel campo lì grazie a Mattia Notari che ci fa una donazione tutto interessante come sempre faccio la mia donazione che vale anche per le zuppe quotidiane ha diversificato anche sulle zuppe ha diversificato comunque chi ci fa le donazioni è un bene merito perché continua a mantenere l'indipendenza di questo sito poi aspetta che voglio vedere molti ecco ci chiedono Pasquale Motolese Leonardo che spiega bene cos'è e che cosa vuol dire Leonardo è l'ex film meccanica è una società che produce elicotteri produce parte dei Boeing a civili americani ma soprattutto sta crescendo in maniera esponenziale nella cybersicurezza e questo maledizione lasciatemelo dire i mercati non lo vogliono capire e non lo vogliono apprezzare il titolo ha fatto parecchia fatica rispetto agli altri negli anni scorsi adesso che il signor Putin ci ha tutti riportato con i piedi per terra tutto il settore difesa quindi anche Northrop Grumman Lockheed Martin e compagnia dovrebbero finalmente ripartire e mettiamoci anche fincantieri quindi quello che non ha fatto in questi anni Leonardo per circostanze che sarebbe stato meglio evitare potrebbe farlo nei prossimi mesi nei prossimi anni anzi dovrebbe farlo Massimo tanto per Nicola tanto per puntualizzare quanto è forte questo mondo e che numeri può generare oggi parlavo con il responsabile da cyber security di una importante banca nazionale italiana e mi diceva che loro ricevono 450 attacchi informatici al giorno nelle condizioni di normalità quindi capisci e capite voi che ci ascoltate quanta sicurezza deve essere generata attorno a queste attività e quindi il discorso che facevo un attimo fa Massimo del fatto che ancora non si è apprezzato correttamente questo settore è un punto interrogativo da valutare manteniamo il ritmo perché abbiamo 1500 persone in diretta e che è un nostro record Michele Amoruso in questo momento meglio posizionarsi su titoli value o grow però spiega qual è la differenza chiunque di voi me la spieghi bene che lo faccia capire anche un cretino come me no no guarda te la spiego come te la spiegherebbe un saggio orientale titoli valore sono i titoli in cui il valore dell'azienda c'è subito i titoli grow sono i titoli in cui il valore dell'azienda arriverà cioè i titoli value sono i titoli già ben solidi già ben piazzati che controllano il loro mercato quindi stiamo parlando Enel, Eni per certi versi le banche questi titoli qua i titoli grow sono i titoli tecnologici se penso a un titolo italiano grow penso per esempio alla Interpump che sta facendo delle cose meravigliose con una crescita incredibile penso ai titoli tecnologici la risposta rapidamente è ovviamente dipende dal profilo di rischio questo c'è scritto anche sui libri di investimento per avere un basso rischio meglio i titoli value che essendo consolidati come aziende pagano anche i dividendi in maniera più regolare però se si vuole guadagnare tanto in prospettiva allora sicuramente bisogna rischiare di più e andare sui titoli grow anche a livello di eventuale piano d'accumulo perché sono anche divisi per fondi ci sono i fondi investimento azioni value fondi investimento azioni grow se andate sul grow dovete fare un piano d'accumulo che sia un pochino più lento perché lì la volatilità è più alta poi l'abbiamo visto in questi giorni quello che è successo con la volatilità dei settori diversi quando i mercati continuavano a trainare come giustamente dicevi il grow correva il value invece è andato meglio in questi giorni di guerra molti ci chiedono ma tantissimi e Salvatore lo fa Donnarumma lo fa in maniera forse un pochino più sofisticata rispetto a tanti la Russia è la seconda nazione al mondo per l'estrazione di bitcoin dopo il Texas ovviamente un'istinzione digitale ormai lo sanno cioè il bitcoin è una valore digitale che si basa su quella fiducia chiamata blockchain dopo il Texas l'uscita dal sistema di pagamenti Swift cioè se facciamo queste sanzioni favorisce non solo bitcoin ma il sistema monetario mondiale guarda in realtà per ora per come viene prospettata l'uscita dello Swifton riguarda le principali banche russe però per il momento secondo me è più propaganda che realtà perché la Russia è in collegamento anche con le banche asiatiche quindi in un modo o nell'altro i soldi dalla Russia arrivano per quanto riguarda le criptovalute sì in Russia hanno molto successo perché senza scomodare Dostoievski i russi sono un popolo di grandi giocatori perché sono molto concreti e vogliono i risultati in fretta ma non credo che questa cosa fermerà la voglia di bitcoin da parte da parte dei russi anche perché le criptovalute si comprano e si trattano da privati non da banche per il momento e quindi un russo potrà tranquillamente aprirsi il suo conto in Asia su Hong Kong su altri posti del resto anche l'Ucraina è un altro paese dove i bitcoin rappresentano una quota del mercato degli investimenti abbastanza importante come dicevi tu è un altro paese dove ci sono tra i server più importanti al mondo di tantissime aziende quindi è un altro tema e poi considerate scusami Leopoldo considerate che nel frattempo è cresciuto in maniera esponenziale il sistema dei pagamenti digitali asiatico e cinese in particolare e queste sanzioni lo faranno crescere ancora di più quindi state tranquilli che alla fine anche da questo punto di vista sia sull'energia sia sullo Swift rischiamo noi europei di pagare il prezzo più alto i mutui e tasso variabili aumenteranno chiede Patrizia Gabriele per ora no ma chiaramente quando aumenteranno i tassi di riferimento direi di sì anche se poi in realtà i mutui a volte vengono indicizzati sull'Euribor l'Euribor di fatto è un tasso bancario e un pochino ha iniziato a muoversi quindi chi deve fare un mutuo è meglio che si affretti faccia bene i calcoli se ce la fa a pagarlo però non aspetti tanto tempo perché sicuramente al 90% l'anno prossimo lo fa a condizioni più pesanti a tassi più alti credo che Patrizia voglia sapere anche per chi l'ha già sottoscritto perché è fondamentale quello che dicevi tu nel momento in cui l'Euribor si sposta tranquillamente crescerà una piccola parte adesso anche lì però non seminiamo allarme perché no nel senso l'inflazione è alta però poi l'Europa avrà il problema di non castrarsi da sola di non spararsi sul piede con la crescita quindi comunque un po' di inflazione dovrà essere accettata tanto guarda la BCS la cava sempre perché loro dicono che il loro obiettivo è l'inflazione al 2% e siamo più del doppio ma nel medio termine quindi loro ti dicono secondo noi l'inflazione andrà a posto sul 2% e più di così i tassi non li aumentiamo Leopoldo ma anche perché quella differenza tra tassi e inflazione ricordiamoci che aiuta a consumare debito pubblico che in questo periodo è stato è stato sicuramente aumentato maci maci botto beni reali cash e pack 6-12 mesi sulle azioni cosa ne dice? Comincio dall'ultima allora comincio a specie dall'ultima un pack 6-12 mesi sulle azioni è troppo poco deve essere da 2 a 3 anni allora attenzione ai beni reali i beni reali vuol dire immobili signori abbiamo la riforma del catastro su cui ho ascoltato qualche bellissima zuppa di Nicola insomma con toni abbastanza calorati attenzione ai beni reali ecco tu l'altra settimana l'altra settimana hai fatto una differenziazione molto forte in una domanda simile a questa cioè dici una cosa è l'investimento una cosa è l'acquisto di un immobile per cui facciamo delle valutazioni diverse se investiamo in beni reali o se compriamo una casa per andarci al mare molto differente no comunque l'impatto della riforma sul catastro anche se adesso riformeranno i valori poi però l'eventuale maggior tassazione arriverà tra qualche anno però chi compra una casa lo sa che è un investimento a lungo termine non è stupido quindi l'impatto sul mercato immobiliare è tutto da valutare è un grosso punto di domanda questo nel nostro paese insieme all'energia tutto il resto il cash è presto detto è meno 5 in questo momento cioè spiegate bene la PAC ragazzi non date nulla per acquisire allora il PAC il PAC è uno strumento di investimento che ha bisogno di due caratteristiche essenziali prima una diversificazione molto importante quindi deve passare attraverso un fondo comune di investimento e poi un asse temporale molto più alto di quello di cui parlava l'amico che ci scrive perché sei 12 mesi è un tempo dove le oscillazioni possono essere anche nulle o anche molto violente per cui potrebbero non rientrare nel costo medio sostanzialmente un PAC che funziona deve essere visto soprattutto azionario su un arco temporale che va al di sopra dei 6-7 anni a mio avviso allora sentite questa domanda è molto scientifica allora intanto prendiamoci un complimento queste live economiche sono il top grazie Bandit XP però la cosa che voglio dire è quella di Marco Vecchiotti Marco Vecchiotti dice ho un fondo 100% obbligazionario quasi tutto non USA stanno soffrendo da mesi mi sapreste spiegare il motivo e cosa potrebbe accadere a breve medio termine Marco Vecchiotti e caro Marco con la prospettiva di aumento dei tassi di interesse i mercati obbligazionari hanno fatto da sé cioè non hanno aspettato l'aumento da parte delle banche centrali hanno iniziato a chiedere un rendimento maggiore soprattutto i compratori questo ha fatto scendere i prezzi ed è il motivo per cui il tuo fondo obbligazionario come quello di tutti noi sono scesi e purtroppo forse Massimo è il caso di spiegare anche per la gente normale che cosa significa che se i tassi salgono i prezzi scendono di un titolo cioè per i titoli così facciamo capire perché anche tutti allora immaginate vi faccio un esempio vi faccio un esempio semplicissimo immaginate che un titolo abbia un'unica cedola del 4% perché è nel suo ultimo anno di vita se tu lo compri a 100 100 è il valore di rimborso quel titolo rende il 4% se vuoi che renda il 5 lo devi comprare a 99 perché la cedola è fissa al 4 e il resto del guadagno deriva dal punto di sconto da quel punto che tu guadagni tra 99 e 100 il problema però è che questa cosa dell'aumento dei tassi di interesse attesi ed effettivi durerà ancora un po' quindi temo proprio che sia pure piano piano il fondo vada avanti a diminuire poi però si assesterà perché attenzione il fondo da un lato vede il valore delle sue obbligazioni scendere ma dall'altro lato va avanti a incassare le cedole quindi poi si autostabilizza Silvana Como che sorpresa Massimo Intropido deve essere una tua fidanzata della rete di la verità sì 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 è bene è bene saperlo Silvana adesso ci sarà con il marito mentre benvenuto a Sicel SAS verifiche impianti elettrici di messa a terra e ci sono questi puntini di sospensione non è finita ehm vediamo qua eh che altro ci dicono quindi da domani aspetta quindi da domani vendiamo tutto dice Rita pelizzoli o ci rimettiamo anche gli slip no non è così adesso è il momento peggiore per vendere perché comunque l'interesse di Russia e Ucraina è trovare un accordo eh i mercati siccome sanno che comunque eh c'è c'è da da uscire dal covid sicuramente sarà più difficile di come non lo sarebbe stato un anno fa per via dell'inflazione cioè che che poi soprattutto aumento dei delle materie prime ma anche eh difficoltà di averle perché poi se si è bloccata tutta la catena distributiva no? I magazzini mondiali i porti automatizzati erano talmente ottimizzati talmente ridotti all'osso che appena si è bloccato qualcosa si è impazzito tutto però non c'è altra opportunità che che uscirne in in positivo e comunque adesso veramente come abbiamo detto con con Leopoldo più ci si avvicina a qualcosa che sia una pace e speriamo che sia la pace punto e più i mercati hanno da recuperare perché erano già scesi prima ma per esempio piazza affari per cancellare completamente la sola economia di guerra chiamiamola così anche se è un termine che non mi piace deve recuperare ancora un 4-5% ecco provo a dare una risposta a Marco muccetti bravo 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 semplici allora pensiate che avete che abbiate comprato un titolo che vale l'uno per cento ecco quel titolo se voi lo portate a scadenza come titolo obbligazionario prendete l'uno per cento che sia di cedola o che sia di di valore maggiorato sul sul titolo stesso quindi a scadenza quel titolo non avrà nessuna preoccupazione ma nel durante cioè durante la vita di quel titolo ci saranno altri titoli che vengono emessi bene se viene emesso sul mercato un titolo che ha un rendimento più alto come in questo caso è normale che il prezzo del mio titolo che ho messo da parte scende un pochino perché se lo voglio vendere sul mercato la gente dice io voglio quello nuovo che ha un tasso di interesse più alto quindi se compro il tuo che ha un tasso di interesse più basso tu mi devi pagare un sovrapprezzo questo è il motivo per cui il cosiddetto corso del titolo scende nel momento in cui i tassi di riferimento salgono succede anche la cosa opposta voi in passato per chi ha investito in obbligazioni per chi investe soprattutto in passato in BTP vi sarete trovati nella situazione opposta in cui con il tassi che scendevano soprattutto quando sono andati sotto lo zero i prezzi dei titoli sono saliti e quindi molti avranno venduto addirittura chi l'avrà fatto il titolo prima della scadenza perché conveniva perché in quel momento aveva un risultato economico più importante tutti questi titoli messi dentro un ah bravo cento euro un euro allora questo è un titolo da cento euro questo è un titolo da cento euro quanto mi rende un euro va bene questo è un titolo che io pago cento euro e quanto mi rende due euro due euro che cosa ci faccio con questo titolo di cento euro e di cento euro oppure lo vendo con un prezzo più basso invece di buttarlo così farebbe no assolutamente fantastico per cui il concetto il concetto è proprio questo poi messi dentro un fondo naturalmente ce ne stanno tanti di titoli così e quindi la quota del fondo rappresenta quel valore deep fake fuorissimo senti che dice sul panico si compra sempre quando i titoli giovedì perdevano 10 9 11 per cento dice sul panico si compra sempre che ne dite di questa strategia al cardiopalma di deep fake fuorissimo che puoi farti del male cronico allora il singolo titolo bisogna sapere cosa compri perché se compri un titolo che poi fa default ti autodistruggi cioè perlomeno perli tutto quel capitale se compri l'indice cioè se compri un fondo azioni Italia piuttosto che un fondo azioni America piuttosto che un fondo azioni mondo sì bisogna fare così naturalmente bisogna farlo in piccole dosi perché non sai quanto durerà la crisi non sai quanto durerà la crisi no non fatelo sui singoli titoli se non conoscete bene le società ma è la formula del PAC di cui parlavo prima diversificazione quindi un indice quanto più grande possibile l'indice meglio è esatto perché se non andiamo su scala mondiale non abbiamo nessun tipo di rischio nella crescita futura quindi e comprare in controtendenza a quel punto va bene se non sapete quale paese comprare comprateli tutti fate un fondo global equity perché nemmeno noi perlomeno non io so dirti quale sarà da qui a dieci anni il paese come se ieri mi hai detto compra quello l'ho comprato ma ha fatto il 20% no vabbè dai 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 però te ne ho portato un bravo compratevi il mondo perché così non avrete il problema Marco Muccetti non molla perché i titoli grow che sono quelli che hanno danno una speranza non quelli che hanno già una grande storia risentono di più del rialzo dei tassi addirittura della prospettiva domanda molto tecnica spiego bene i nostri commentari cioè se io mi compro uno di quei titoli tecnologici o del futuro o anche titoli ordinari che tu sai che nel futuro potranno avere una grande crescita quelli sono quelli che rischiano di più in uno scenario di tassi di interesse più alti perché avviene questo chiede Marco Muccetti ragazzi sono 38 minuti che abbiamo fatto e fra un po' dobbiamo chiudere vai allora per due motivi perché i titoli grow sono fatti di piccole società con una buona idea che nei primi anni sono in perdita e lavorano per forza di cose con soldi prestati quindi già non fanno utili se aumentano i tassi pagano più interessi e quindi falliscono prima e questa è una categoria la seconda categoria è che tutto ciò che è tecnologia siccome si rinnova richiede continuamente investimenti cioè io ti sto parlando dal computer di mia figlia che l'ha comprato dopo di me ed è più potente del mio tutta questa corsa a rinnovarsi se l'interesse è più alto si ferma e quindi le società che devono vendere nuovi prodotti che piano piano stanno entrando in consumo che stanno diventando di moda cioè per esempio le auto elettriche il finanziamento il TAEG le rate le 60 rate TAN TAEG ecco il TAEG aumenta e quindi magari aspetti un attimo prima di comprare l'auto elettrica va bene perché ci sono i chip per cui stai fresco ad avere l'auto elettrica eh sì 40 minuti di una zuppa scoppiettante Massimo sei stato straordinario grazie straordinario Leopoldo a te le conclusioni perché abbiamo fatto 10 minuti più del dovuto innanzitutto voglio dire che ci trovate con Massimo praticamente questa settimana ci siamo stati tutti i giorni sul nostro sito su tutti i nostri canali no no ma di bene di bene dove il lunedì il lunedì e il venerdì sicuramente alle 15 e 45 sul sito di Nicola Porro sezione economia e finanza che è quella ci suona la campana opening ecco poi quando serve dovete andare sul sito nicolaporro.it slash oppure sulla home ma il disegnino come prima sì no ma è fondamentale economia e finanza e finanza è il sito verticale dove non sentite le cagate che dico io solite urlando con le parolacce eccetera ci sono persone serie che parlano di cose serie cioè i risparmi non la politica e poi ci trovate naturalmente anche sui nostri social sui canali youtube di Wall Street Italia insomma lo vedete ci vedete e potete avere tutte le informazioni che ci servono in questo in questo momento tant'è vero che questa settimana siamo andati in onda tutti i giorni sabato e domenica compresi quindi lunedì e venerdì comunque alle 15 e 45 opening bell seguiteci perché abbiamo tutte le considerazioni che voi ci state chiedendo le facciamo in diretta con tutti quelli che ci seguono e cominciano a essere in tanti e poi cerchiamo di dare le informazioni per quello che sono quindi non filtri non troppe preoccupazioni diciamo chiudiamo con Alberto Cimini è vero che la borsa di Israele è positiva ma questo sta vedendosi i futures dell'indice di borsa tedesco meno 2% però c'è da dire questo che sono i futures trattati su mercati paralleli quindi non sono particolarmente attendibili però diciamo ha senso perché appunto oggi si è riparlato ai media di allerta nucleare sono prezzi da prendere un po' con le molle perché non sono i mercati ufficiali comunque quello che è certo è che c'è una volatilità c'è un'alza uno scendere un salire grazie Valentina eh Valentina ci ha proprio messo l'indirizzo del sito per cui Valentina però la cosa che adesso lo mettiamo anche comunque va anche nella home page del sito quindi abbiamo la sezione di economia e finanza in chiaro nell'home page del sito Nicola quindi lo troviamo e poi qua ti frego Casbarro a nicolaporro.it qualsiasi domanda ammazzatelo di domande Leopoldo che si merita questo e peggio di questo qua sotto leggete Casbarro chiocciola nicolaporro.it e se non leggi le mail che ti mandano i commensali ti faccio vedere un numeretto tanto per farti capire guarda ce ne sono da leggere 32.401 ma sei matto guarda che si leggono tutte la cosa fondamentale ma le leggo ah vabbè però bisogna leggerli bisogna leggerle le mail dei nostri commensali anche se non rispondi a tutti però sono il senso della realtà perché ormai la realtà è diventata molto digitale noi rispondiamo stando in diretta praticamente tutta la santa giornata a questo punto rispondiamo in diretta facciamo qua ci chiedono PAC sui paesi emergenti esatici ragazzi ci rivediamo ci rivediamo global equity global equity come ha detto Massimo Intropido più l'ambito diciamo interessante dai il resto lo diciamo un'altra volta adesso cominci a dire la Cina è scesa tanto potrebbe ripartire vabbè ci vediamo domenica prossima ciao 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 perché tra poco scendono in campo per cui sei il solito maglia azzurra ciao